Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Prima confisca nell'aretino di beni riconducibili ad un soggetto vicino ad un clan camorristico. Si tratta di una maxi confisca del valore di circa 1 milione e 300 mila euro ai danni di un sessantenne. Questa è avvenuta dopo il pronunciamento della Suprema Corte che ha messo fine ad un iter giudiziario iniziato nel 2021. Gli inquirenti sono così arrivati al sequestro cautelare dei beni e successiva confisca grazie ad una complessa attività di indagine diretta dal procuratore aggiunto di Firenze che si occupa di prevenzione e contrasto ai patrimoni illeciti condotta insieme alla divisione di polizia anticrimine della questura di Arezzo e del nucleo di polizia economico-finanziaria di Arezzo. Tra questi beni confiscati ci sono una società, un'abitazione a ridosso del centro e lo stabile che ospitava lo storico Poison, un nightclub di via Portabuia e anche un'auto. Escrementi sul portone del comune di Arezzo, un atto vandalico per il quale è già stata formulata una denuncia, sono stati imbrattati campanello e serratura. Escrementi sul portone di Palazzo Cavallo, imbrattati anche citofono e serratura, è successo nella cuore della città di Arezzo nella notte tra lunedì e martedì. Ad accorgersi dell'accaduto l'impiegato che ha aperto il comune e che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. E quindi abbiamo denunciato il fatto all'autorità di polizia e dopodiché è stato sanificato tutto. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Stato per capire se si tratta di un episodio isolato, un atto vandalico oppure se è riconducibile alla commemorazione di Oreste Ghinelli, padre dell'attuale primo cittadino, un'iniziativa particolarmente contestata che si è svolta proprio a Palazzo Cavallo martedì pomeriggio. Io non so che origine abbia, ma qualunque origine è triste vedere che si sporca la casa comunale. Cioè è un atto contro tutta la città, questa è la casa di tutti, la casa degli aretini. Quindi mi auguro che sia veramente il gesto sconsiderato di qualcuno che non ha un equilibrio mentale sufficiente per rendersi conto, che ripeto questa è la casa di tutti. Saranno acquisite adesso le immagini delle telecamere di video e sorveglianza fondamentali per risalire agli autori del gesto. Ci sono delle indagini in corso che stabiliranno, ci sono delle telecamere che hanno sicuramente ripreso chi è stato, non so se sarà possibile identificarlo o meno, però grande tristezza, grande, come dire, questa città non se lo merita una cosa del genere, per qualsiasi motivo sia venuta fuori. Raffica di condanne per l'assalto alla sede della CGL di Roma, la vicenda nella quale fu coinvolto anche un aretino risale al 9 ottobre del 2021 e si sviluppò durante una manifestazione no green pass. Tra i manifestanti è anche appunto Lorenzo Franceschi, aretino conosciuto come il ciclone, leader della locale Forza Nuova, finito a processo con l'accusa di devastazione. Per lui la Corte ha disposto una condanna a 8 anni e 2 mesi di reclusione. La sentenza sarà depositata fra 90 giorni. Il suo difensore ha già annunciato che ricorrerà in appello. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno denunciato 5 persone, due sono state trovate con un tasso alcolemico superiore di ben 4 volte al limite consentito, un 39enne è stato invece sorpreso alla guida dell'auto sotto l'effetto di stupefacenti, un 33enne di origine rumene è stato invece trovato alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente, infine un 19enne trovato in possesso di una modica quantità di hashish e per questo segnalato alla Prefettura. Si accinge al termine questo 2023 e allora traccia il bilancio di questo anno che si chiude anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Che devo dire che mentre la E78 la aspettiamo da 40 anni, ma non c'era, se non arriva non cambia in peggio la situazione. Medio Etruria no, se Medio Etruria viene collocata in un posto che ci penalizza e per noi le cose comincerebbero ad andare peggio. Per questo mi auguro che ci sia un ripensamento rispetto all'indicazione che ha dato il tavolo tecnico romano. Medio Etruria a Rigutino resta uno dei principali obiettivi per il primo cittadino di Arezzo che assieme alla Giunta ha tracciato il consueto bilancio dell'ultimo anno, un 2023 segnato a livello internazionale dai conflitti. Guerre che ci danno preoccupazione per il futuro, ma ci sono guerre che ci hanno provocato un disastro dal punto di vista dei costi delle materie prime, dal punto di vista della disponibilità dell'energia. Rispetto a queste comunque la città di Arezzo ha reagito bene. Brillante in questo 2023 il bilancio delle attività della Polizia Municipale che nel corso dell'anno ha accertato 177 violazioni, di cui 128 trasmesse all'autorità giudiziaria. Oltre 64 mila invece le violazioni al codice della strada contestate e nel 2024 ci saranno novità importanti. Sono previsto l'acquisizione di 12 nuove unità per la Polizia Municipale per portare la consistenza numerica dei nostri agenti a un livello tale da poter consentire di fare nei fine settimana per adesso e soltanto nel periodo estivo il quarto turno, quindi dare una copertura 24 ore della Polizia Municipale sul nostro territorio. Due poi grandi cantieri attesi in città nel 2024, quello per la rotatoria di Via Fiorentina e quello in Via Fabio Filzi dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale. Via Fiorentina è già ripartito, nel senso che tutte le opere accessorie sono già state fatte, ora si deve lavorare proprio sulla strada e si ricomincerà da gennaio. Mentre per quello che riguarda la caserma della Polizia Municipale abbiamo avuto una risoluzione di un contratto con il soggetto che è proprietario di quell'immobile che in parte lo ha già trasformato perché i tempi non erano più possibili con quel tipo di impresa che realizzava i lavori e quindi si ripartirà attraverso due possibili strade o l'acquisizione a prezzo da concordare da parte del comune di quell'immobile oppure se c'è la disponibilità da parte del soggetto attuatore che è un sistema di banche di riaffidare loro i lavori a una diversa impresa con un cronoprogramma nuovamente sottoscritto e che porti a compimento l'opera in tempi ragionevoli. In arrivo nei prossimi mesi anche un vero e proprio piano anti-buche. C'è una programmazione di rinnovo delle superfici stradali di molte strade, non vi sto a entrare nel dettaglio, ma che prevede nel periodo primavera-estate una serie di cantieri che rinnoveranno in sostanza gran parte delle nostre strade. Nuovi bus elettrici, Arezzo è tra le prime città a poterli annoverare nella flotta, in questo caso di Autolinea Toscane. Li vedremo da gennaio lungo le strade del centro storico di Arezzo, i due nuovi bus elettrici, i primi che entrano a far parte della flotta urbana di Autolinea Toscane. Crediamo nella transizione ecologica, crediamo nel fatto che il trasporto pubblico oggettivamente è ambientalmente più sostenibile del trasporto privato, ma bisogna dare dei segnali concreti anche di mezzi di alimentazione ancora più sostenibili. I mezzi rientrano nel progetto Arezzo sviluppato dal gestore del trasporto pubblico su gomma in Toscana in sintonia con l'esigenza di mobilità sostenibile dell'amministrazione comunale che ha beneficiato dei finanziamenti della regione. Tutto questo sottende al fatto che si vuole svolgere comunque un servizio di autobus e di trasporto elettrico nel centro storico, quindi con spazi limitati di manovra, ma soprattutto con la necessità e il desiderio di ridurre sempre di più il sistema emissivo in atmosfera. Il mezzo elettrico, insieme a quello a idrogeno, che ancora però non è disponibile, è l'unico che oggi ci può dare questo tipo di assicurazione. Abbiamo preso impegni forti, importanti, nei confronti della collettività nazionale e internazionale per la riduzione ad Arezzo delle emissioni di CO2 in atmosfera e questo non può che essere operato anche con mezzi elettrici. Ed è evidente che le amministrazioni non possono chiedere sacrifici ai cittadini se se stesse non si dotano di mezzi che hanno questo tipo di trazioni. L'ammontare complessivo della spesa finanziata supera il milione di euro, interamente coperti così i costi dei due basse della colonnina di ricarica che sarà installata nel deposito di autolinee a Sette Ponti. Insieme agli investimenti fatti su queste parti tecnologiche ci sono anche investimenti, diciamo, anche su bus più tradizionali. Noi pensate che dobbiamo, nei prossimi due anni, innovare qualcosa come 909 bus. Cominceremo a ordinarli per poterla avere nel corso dei prossimi due anni. Questo cambierà totalmente la flotta, cambierà la qualità del viaggio ma anche la qualità del servizio. Molte innovazioni stiamo introducendo, dalle paline elettroniche, dal fatto che si può utilizzare l'app con la quale si può fare biglietti e con la quale si può tracciare un viaggio. Abbiamo quasi finito di impiantare qualcosa come 20.000 telecamere dentro i bus. Questo ci consentirà di vigilare dovunque sono bus, dove si fermano inaspettatamente e perché. E di sapere esattamente quello che succede dentro un bus in quel determinato momento. Non c'è più l'impunità. Abbiamo accordi con le prefetture, faremo sempre più accordi con le prefetture per quanto riguarda anche l'immediato soccorso nelle eventualità che ci siano scene di violenza. Tutto questo per rendere il nostro viaggio sempre più, non solo gradevole, non solo ecologico, ma anche sicuro. E parliamo sempre di trasporti, ma in questo caso di treni, perché nelle ultime settimane il servizio ferroviario sulla linea Arezzo-Firenze ha subito un grave decadimento della puntualità. L'intervento in questo caso è dei sindaci del Valdarno. È diventata costante, scrivono in una nota, appunto la mancata puntualità proprio dei convogli, crollata addirittura al 77%, cioè un treno su quattro arriva in ritardo di oltre cinque minuti. Agli utenti che viaggiano sui treni, si legge ancora nella nota, devono essere garantiti gli standard di qualità che meritano. Abbiamo richiesto, dicono i sindaci del Valdarno, un incontro con l'assessore regionale Baccelli, che è già stato programmato per martedì 16 gennaio. Il reparto di terapia intensiva sarà aperto alle visite dei parenti, dei pazienti ricoverati durante queste festività natalizie. Rendere umano il rapporto con i familiari ed informare sulle cure prestate al proprio congiunto che è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Si chiama Rianimazione Aperta, la rivoluzione che apre le porte della terapia intensiva del San Donato di Arezzo, diretto dalla dottoressa Raffaella Pavani. La terapia intensiva sarà aperta ai familiari dei pazienti dalle 15 alle 23, una fascia oraria che prevede un'ulteriore suddivisione. Dalle 15 alle 17 è consentito l'ingresso massimo di due visitatori alla volta per degente senza possibilità di cambio, orario in cui il medico di guardia e l'infermiere referente forniranno notizie relative all'andamento clinico assistenziale. Dalle 17 alle 21 il passo poi viene chiuso, ma resta la possibilità ad un visitatore di rimanere. Dalle 21 alle 23 è poi di nuovo previsto l'ingresso di massimo due visitatori alla volta per degente con possibilità di cambio. Ai visitatori se ne è inoltre chiesto di avere la massima attenzione per tutti i pazienti del reparto, ma anche di rispettare alcune norme igieniche di sicurezza e gestionali. Permettere la presenza di familiari e visitatori in terapia intensiva, commenta la dottoressa Raffaella Pavani, non è una concessione che facciamo al paziente, ma il riconoscimento di un suo diritto. Abbiamo spesso ricordato con i dati Caritas, ma non solo che la povertà è in aumento, anche nella ridente città o provincia di Arezzo. Ne sono una dimostrazione anche i dati diffusi dalla Fraternità Federico Bindi, il cui presidente lancia adesso un appello. Abbiamo bisogno del supporto umano, materiale e spirituale di tutti. È l'appello del presidente della Fraternità Federico Bindi, Cristiano Rossi, alla comunità Aretina. La Fraternità gestisce dal 2015 un centro di urno per senza tetto e persone in stato di bisogno. Solo dal mese di ottobre, nell'arco di 30 giorni di apertura, gli accessi sono stati oltre 300. 100 le docce erogate, 50 le lavatrici, oltre a colazioni e distribuzione di indumenti e calzature. Il centro di urno, afferma ancora il presidente, ci consente di incontrare le persone, ascoltare i loro bisogni e le loro storie. Nei tre co-housing sono 20 le persone accolte. L'appello, dunque, del presidente Rossi è rivolto al cuore, alla generosità degli aretini, affinché questo prezioso servizio possa continuare ad esistere. Abbiamo bisogno di soci, volontari, simpatizzanti, dice Rossi, ma anche benefattori, perché le spese di gestione delle nostre strutture, tre case di accoglienza, appunto, e un centro di urno, comportano un grande impegno economico. E adesso invece parliamo di studenti, quelli dell'Istituto Marconi di San Giovanni Valdarno, questa mattina in protesta di fronte al palazzo della provincia di Arezzo, perché i problemi strutturali, appunto, del loro istituto non sono ancora stati risolti. Che vogliamo una scuola senza reti e con un tetto che non ci crolla addosso. Sono le studentesse e gli studenti dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno a manifestare di fronte al palazzo della provincia di Arezzo per chiedere risposte. Tutto era iniziato lo scorso settembre, a pochi giorni dal suono della prima campanella, quando l'edificio era stato dichiarato inagibile per il crollo del controsoffitto e del solaio in un'aula. E noi siamo in questa situazione, cioè mezzi a Montevarchi, un pochini a San Giovanni e non abbiamo una scuola. Vogliamo una scuola con un tetto decente. Parte delle classi erano state infatti spostate al centro pastorale di Montevarchi, altre al convento dell'ex suore sei mattine di San Giovanni ed infine nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo. Che noi siamo in dei sotterrani di una chiesa, non abbiamo la luce del sole, abbiamo i banchi a rotelle, abbiamo un armadio in classe, una lavagna, un metro per un metro. Una situazione complessa perché coinvolge 22 classi e 17 laboratori, quest'ultimi fondamentali per gli studenti del Marconi. Perché noi se non abbiamo un tot di ore di laboratorio non possiamo superare l'anno. Quindi vogliamo anche dei laboratori per farci superare l'anno e avere il nostro diritto, cioè un'istruzione e anche un lavoro in mano perché è questo che la nostra scuola ci fa, ci dà un lavoro. Siamo alla cultura, torna alla stagione concertistica retina promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo dal Comune e con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Grandi appuntamenti imperdibili anche per questa stagione con una serie di concerti di altissimo pregio. Si inizia il 23 dicembre al Teatro Petrarca. Terza edizione della stagione. Noi abbiamo iniziato questo percorso dandoci degli obiettivi precisi di proporre Arezzo come città della musica e di portare ad Arezzo l'eccellenza. E mi sembra di poter dire che in questi due anni l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo con queste stagioni di altissimo livello. Grandi orchestre, musicisti di fama internazionale, bel canto e l'eccellenza della danza. Torna così per la terza edizione la stagione concertistica retina. Voglio ricordare che questo sarà il terzo anno in cui il Maggio Musicale Fiorentino viene a fare uno spettacolo ad Arezzo con un direttore importante e infatti ospiteremo questo spettacolo che è il 27 di gennaio al nuovo auditorium Caurum Hall come si chiama oggi con questa nuova sponsorizzazione. Ma anche gli altri, il ritorno del maestro Renzetti il 2 di maggio il concerto di Natale dell'ora del 23 di dicembre con l'Orchestra del Veneto l'anticipo dello Youth Festival a ottobre insomma è una importante stagione che dà lo stimma ad Arezzo di Città della Musica. Visto il successo dell'anno scorso abbiamo deciso di riproporre un evento di danza anche quest'anno all'interno di questa stagione meravigliosa che presentiamo oggi. sarà una serata in cui avremo la possibilità di vedere le più grandi stelle del mondo della danza ci saranno i primi ballerini dei più importanti teatri del mondo dal Royal Ballet alla Scala al Teatro dell'Opera di Roma per cui sarà una serata anche quella di altissimo livello. Allora innanzitutto ricordiamo che il 23 dicembre inizierà la prevendita online al Teatro Petrarca detto questo sì ci aspettiamo come l'anno scorso che ci siano richieste che non riguardano soltanto Arezzo e la provincia d'Arezzo l'altro anno per i concerti abbiamo avuto pubblico da diverse parti d'Italia chiaramente con dei numeri non giganteschi però questo segna l'attenzione per i nomi che riusciamo a portare ad Arezzo che hanno un eco che va molto oltre direi anche internazionale se ricordo quello che è successo con l'Anetrebco. Ed infine parliamo della nuova sciarpa di orgoglio Amaranto si tratta di un modello vintage con richiamo proprio al centenario del cavallino nell'etichetta ricamata una bella idea regalo dicono appunto dal comitato per i tifosi Amaranto grandi e piccini viene distribuita proprio all'orologeria Pernici di via Cavour il comitato però avvisa i tifosi che è un gadget a tiratura limitata ed è disponibile soltanto fino ad esaurimento. è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci grazie per la visione